Buongiorno, sono Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera, un saluto da Washington. Dunque, come saranno i giornali nei prossimi cinque anni? Sicuramente continuerà il trasloco dalla carta al digitale, anche se in Italia probabilmente questo fenomeno sarà più lento rispetto a quello che abbiamo visto negli Stati Uniti. In Italia abbiamo verificato proprio negli ultimi anni come esiste ancora un pubblico molto affezionato alla edizione cartacea. In ogni caso i giornali diventeranno delle piattaforme sempre più aperte, sempre più ibride, dove si mescoleranno tipi diversi di comunicazione, le immagini, la parola scritta, l'audio, come dimostra il recente successo dei podcast. Poi naturalmente il problema sarà come distinguersi, come farsi riconoscere nella folla della rete. Conterrà sicuramente la qualità dell'informazione e conterrà anche l'originalità con cui vengono scelte i contenuti, l'originalità con cui vengono presentati al pubblico.